Come un animale cerco il mio branco, il mio centro che possa decretare l'ordine e la sicurezza in un mondo caotico e totalmente incomprensibile, che possa rassicurarmi ed allontanarmi da ciò che più per me, uomo, risulta essere angoscioso, la mia stessa vita prima di trovare il mio branco, il mio centro.